Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su AVEGES GAMETUBE, puoi cominciare se vuoi, BANNI. Eh? Puoi cominciare se vuoi. Ah ok, bella. Oggi siamo qui dopo sbagliate prove, ragazzi, vi ho fatto un mare di partite già registrate, fatte, liste, belle, siamo venute bellissime, per quanto avevo problemi sempre con l'audio e c'è il gol di 1 a 0. Bene ragazzi, sono in tv. Eh si, porco il demonio, 1 a 0 per lui. Comunque, in questa serie spero che sto video vi uscirà uscire sistemato, vedrete noi impegnati nei derby d'Italia. Oggi saremo a Torino, come vedete, per prendere bastonate dalla Juventus in maniera pesantissima. ma tanto poi dopo si scambierà tranquillamente, perché faremo due partite. Una all'andata, dove gli esempio prendo la Juve, lui prende il Torino, poi io prenderò il Torino e lui prenderà la Juve. Occhio, vives! Mamma mia. Ragazzi, vincerà la puntata chi otterrà il maggior numero di gol rispetto all'avversario. Adesso mi è finocchio. Va, è violente che fa queste pinte. Ma perché non la riesco a passare con l'immobile? Perché Asamo ha i capelli half, altro che è. Guardalo. Ma intanto si è bellicciato. E' stato male. Come non mi è accorto. Ah, forse gli hanno fatto la fotografia prima che iniziava stagione mentre si stava fumando la bamba nel suo paese. Prova a tirlo! Andrea, tirlo! 2 a 0! Mamma mia. Sto prendendo tante di quelle batoste che non mi ricordo nemmeno come cazzo mi chiamo. Mamma mia Vidal. Vai shampoo. Gliorente! La falcata! Niente, niente, niente! Non hai fatto gol! Non hai fatto gol! Non hai fatto gol! No, non hai fatto gol! Gliorente! Hai visto non l'hai fatto? No! 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 Cerci! 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 Immobile! Calcio d'angolo. E' troppo fermo immobile comunque. Dai, regà! Dai, regà! Giorgio dai! Giorgio dai! Non farla entrare sapà! Mamma mia! No! Rodrigo Ziga! E' il polpo! Mamma mia che schifo! Mamma di un po' di pazienza! Ho visto Pirlo! Incredibile! Per una volta hanno fallo il lancio! Cioè scusate, Pirlo che accorreva non si può guardare unico! Eh, lo so, però! Moa, perché c'era una cosa moa e d'Armiania! Esattamente! Oh, questo è il Tirollo 0-0! Questo è il Tirollo 0-0! Fa schifo! Vergognati! Dai, 2-0 primo tempo! Sta andando bene! Per me! Benissimo! Sta andando benissimo, ragazzi! Alla grande proprio! Ragazzi, eccoci qui per il secondo tempo! Corri Cerci! Corri Cerci! Corri Cerci! E cos'era l'Ambrosio? No! No, male se hai comprato l'Inter per non il Milan a questo! Violente! Ci prova! Da lontanissimo! No! 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 La prende! Ah, mamma mia! Inter, la fatica! Ok, secondo me la puoi prendere in culo! Eh, cioè, la parola! Vi ha fatto bello! Che cosa è questa cosa! Il Polpo Asamoah, non era Pol! Si era gomitorato su se stesso, praticamente! Vabbè! Praticamente io non sto più arrivando a tirare in porta! Io non manco giocato! Mi sono limitato a contrastarti! Io mi gioco tutto a ritorno! No, però se mi fai il terzo gollo non va! Non va il terzo gollo, eh! No! Che cazzo fa! Ma che cazzo fa! Ma che cazzo fa! No, chi è? Ma chi era il numero due? Chi è il numero due? Chi sei il numero due? Ti devo linciare! Ti devo prendere la testa in giro sgozzato! Chi cazzo sei? Ragazzi, questa razza si conclude qui! Manni! Eh... Eh... Omenti, migliore in campo? Migliore in campo? Eh... Bufon! Io voto con il Riguez! Soprattutto Bufon che ha fatto un sacco di parati interessanti! Ai vedi pure del culo! Ragazzi, c'è la passione! Lo amo! Lo amo! Lo amo! A prossimo match! Ragazzi, si parte! Stavolta io solo con la Juventus! Lui col Torino! Io gli apro il culo! Se permessi di prendermi per il culo! Al fine video, ragazzi! Ce l'ho sentito tutti! Giusto? Eh... Sì! 1-0! 1-0! 1-0! Sì, è proprio il primo minuto! Anche prima! 1-0! L'hai vissato Triggaz? Ma tu l'hai messato Triggaz? Eh? L'hai messo Triggaz? L'hai messo Triggaz? No, no, no! È proprio lontano anche dalla tribuna! Cioè, manco convocato allo stadio praticamente! Ahahahah! Mamma mia, Barreto quanto corre! Quindi ragazzi, lo diamo il parziale! URA URA! Gino e Bobbie! Mamma mia, che colpo di testa! Dovrebbe l'assist, quindi ci può essere di Alessio Cerci! Vai così! Scordiamo il parziale! Continua! Guardate che concentratore non farmi prendere la palla, è bastardo! Mamma mia! Ma che c'è ci passa? Tira coglione! Cioè, vabbè, stai guarda lì veramente! Un pirlo di testa, sta dentro l'aria! Un pirlo di testa da lì, poi! Il medicato di mettere è Cesare Bobbo! Quello che bestemmia a prescindere! Da quando si alza! Ah, è vero! C'è un video che gira su di tu! Prende! Pirlo! Pirlo! C'è un po' di testa! Ma ti cazzo da te già da centrocampo! Porco il demonio a te! E' pazita di Sio Cerci! Cerci! Cerci vici! Cerci vici! Stai buttando! Minchia che brutto sto croce! Stai buttando in mezzo! Ma guarda buffon! Per immobile! Il legato amico, il legato amico, cosa è colpa tua! Cerci! Mamma mia! Mamma mia! Nooo! Non segnavo! Va c***o! Ma però se gliela do a lui gli fa gol eh! Chiudi così il primo tempo! Sofferenze! Sofferenze questo primo tempo ragazzi! Bene così! Pericolo rega! Pericolo! I saltatori sono tanti! Milioni di milioni! Ma pure i Pirla sono tanti in questa squadra! Milioni di milioni! Ma che c***o! Pirlo smetto di tirare di testa tu! Eh vabbè! Ti avessi in fuori gioco! Faccia la sgommata qua! Faccia la sgommata! Vai! Spacca la bottiglia! Ma che c***o fai?! Ma che c***o fai?! Santo Dio! Si fa di bamba! Si fa di bamba! La bamba del Cile è ancora peggio con l'acqua italiana! Perché la bamba italiana... Viene dal Cile! Non si sa! Avete sentito bene! È entrato Cesare Bovo! Violente! Arbitro! È cascato da solo! Arbitro di merda! È cascato da solo! È cascato da solo! Guardalo! Gli ha dato un calcio ed è caduto! Aspetta! Ragazzi! Arturo vi dal dal dischetto! No! Arturo no! Tirerà lui! Il mitico! Insuperabile! Già luci! No! No! Padelli miracoloso! Padelli! No! 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 Vai Tevez! Vai Tevez! Vai Tevez! Ma vaffanculo Tevez di merda! A pace del cazzo! Se un uccellino! Un canarino! Non una pace! Baffanculo! Coglione! Bastardo! Coglione! Cesare Bovo ha munito per la bastigna! Minchia Bovo! Delicato come al solito! Finisce qui! Finisce qui! È finito! Si soffre! Ma non troppo! Ragazzi! Questa prima parte di... Cioè questa prima parte è cazzo! Questo primo video finisce qui! Vanni mi ha aperto il culo! Stavo io a decidere il prossimo derby ragazzi però! Ci sposteremo in una città remota! No! Ho già capito! Tra le antiche mura! Si sposteremo all'Olimpico di Roma ragazzi! Il derby della capitale! Il derby della capitale! Stupendo anche quello! E tu cominci a giocare con la Lazio merda! Eh vabbè! Per il prossimo episodio facciamo 50 visual eh! Boh! Fai anche una decina di like! Una quindicina! Quindicina! Se arriva a 15 like me la taglio ragazzi! In diretta mondiale! Ahahah! Ahahah! Facciamo 10 dai! 10 like dai! Sogniamo! Sogniamo! 10 like ragazzi! Nel prossimo video! Qua cosa è tutta! Dal mio pensiero! E da me! Big! Alla prossima! Alla prossima! Big! ZUKA! A fa morca! Ahahahah! 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 Ahahahah!